Ciao, questa volta non è solo Paolo Baci, ma è la Caravan Baci che si presenta. Quindi parto da Edoardo che ci racconta i suoi compiti. Allora, io sono Edoardo e lavoro nel magazzino, praticamente diciamo il ricevimento del materiale, l'organizzazione, il metterlo a posto e poi altri compiti, magari rispondo anche per l'officina, per i clienti e niente, tutto quello che c'è da fare. Bene, Jimmy! Ciao a tutti, sono Jimmy! Giovane, quindi da quanto tempo? Questi sono giovani, tu? Io ormai ho quasi tre anni che faccio parte della Caravan Baci e gestisco il magazzino. e nello specifico faccio tutta la parte del magazzino a 360 gradi, principalmente gestione delle mail, telefonate, ricevimento merci, ordini, materiale e poi ovviamente stiamo dietro ai ragazzi dell'officina, dico stiamo dietro perché Edoardo è il mio assistente. Ciao, io sono Stefania, il mio reparto è il lavaggio e mi occupo esclusivamente della pulizia di tutti i nostri camper. E c'è un bel punteggio, da parte dei noleggiatori che tornano, mi hanno dato un bel punteggio di pulizia. E il mio noleggio l'abbiamo anche tanti. Ciao, io sono Chiara, lavoro qui da diversi anni, 2008, e mi occupo principalmente del noleggio e poi di tutta la parte della consegna, quindi la spiegazione dei camper nuovi e usati. Piacere, io sono Emiliano e mi occupo praticamente di tutti gli appuntamenti giornalieri che passano qui da noi in officina. Ormai sono abbastanza vecchiotto, sono 19 anni che sono qui dentro e mi tocca supportare di nuovo tutti. Ciao, sono Lucrezia, mi occupo del market e della gestione consegne. Ciao, io sono Alberto, ho 13 anni che lavoro qua, principalmente mi occupo di fare le fotocopie. No, non è vero. Mi occupo di vendita e noleggio. Ciao, io sono Cristiano, mi occupo del commerciale, oltre a fare le fotocopie per Alberto, insieme a lui per tutti i colleghi, e seguo commerciale, noleggio e altri reparti dell'azienda al bisogno. Mi sono Andrea, responsabile tecnico dell'officina, mi occupo oltre che seguire lavori e personalizzazione dei veicoli, anche di fare video di supporto insieme a Paolo, che tutti i giorni me le chiede sempre uno. Ciao, Claudio, l'ultimo arrivato, il più giovane. Io non faccio fotocopie, ma ripristino i campi infiltrati e modifiche, qualora ci vogliono, sui mezzi nuovi. Ciao, sono Manuel e mi occupo dell'accettazione dell'officina. Io sono Giovanni, lavoro alla Caravan Bunch dal 2007, in officina. E va bene. Ciao, io sono Donatella, sono in azienda da circa sei anni e mi occupo di amministrazione, quindi quello che concerne emissione fatture a clienti, pagamenti fatture a forditori, a 360 gradi. Io sono Davide e mi occupo principalmente di funzionalità, di riparazione e ripristini dei mezzi. Ciao, io sono Stefano, sono quello che registra, di solito. Mi occupo prevalentemente ora di vendita e noleggio, dopo essere stato anche in officina. E niente, quindi siamo tutti qua. Quindi, tanti auguri dalla Caravan Baci.